Esattamente dove sto puntando il dito, esattamente lì, ben visibili perché diciamo a una ventina di chilometri, dovrebbero sorgere a una distanza di due chilometri l'una dall'altra 28 paleoliche. Ieri mattina a Schiavonea si è svolta una manifestazione contro il progetto delle paleoliche offshore nel mare Ionio. Circa 100 partecipanti, tra cittadini e rappresentanti di associazioni ambientaliste, si sono riuniti per protestare contro l'impatto ambientale e paesaggistico che le installazioni potrebbero avere sulla costa e sull'ecosistema marino. Credo che il Comune non abbia poteri decisori definitivi, ma comunque la presenza deve esserci a prescindere dalla normativa delle leggi. Non si può assistere passivamente, questo è poco ma sicuro. Le amministrazioni comunali non sono assolutamente coinvolte, indipendentemente dai benefit che potrebbero esserci. Loro elaborano progetti dall'alto, sono progetti che vanno direttamente al Ministero per la valutazione per l'impatto ambientale e le amministrazioni comunali poi sono costrette a difendersi. I partecipanti hanno espresso preoccupazioni per la pesca e il turismo, settori che potrebbero subire conseguenze negative. Mettere nel luogo dove hanno individuato un park offshore significa deturpare la nostra costa e noi stiamo parlando di un luogo in espansione turistica e non mi venissero a raccontare storie. Tecnicamente anche una messa in opera di 25 pale per una circonferenza attorno di 25 ulteriori chilometri dovrebbe essere inibita alla pesca. Assolutamente non sono smaltibili perché formate dalle terre rare, materiale che non si può smaltire, metteranno a serio pericolo la navigazione di pescherecci, navi da crociere e quant'altro, scaveranno il fondale marino per oltre 60 chilometri distruggendo tutte le uova e tutti i pesci. Chiediamo che questo territorio venga attenzionato particolarmente ai fini di una promozione in merito alla sua vocazione naturale. La manifestazione fa parte di una serie di eventi lungo la costa ionica, finalizzati a fermare in installazione delle paleoliche e a preservare il territorio.